E' tutto pronto. Ci sei? Nonna Marie, fai l'urletto che ci sei. Sì, 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 stai via, guarda me. Eccola qua, sta scendendo. Incredibile. Eccola qua. Nonna Marie, sei pronta? Pronta. Cintura, vai. Eccoci. Uuuu, madonna mia, come strombetta. Ma che è? Cos'è? Eh? Uuuu, 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 madonna mia signora. Com'è sta macchinetta? Eh, tranquilla, bellina, si cammina bene. Sì? E' fresca. Va bene, è così, ecco, fai un giro tranquillo. Eh. Ah, tranquilla, tranquilla, tranquilla. Ah, ah. Eh? So io. Ti piace? Bello. Vedi? E questa chi è? Che lei è, è la mia sorella, Gianna. Oh, vedi, ci siete anche voi altri, insomma. Vai, Nonna Marie, cantiamo una canzone, vai. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. San San. Andiamo adesso a San Francesco, voglio bene e io prego sempre, lui mi aiuta a camminare nella strada di Gesù. Ale. È l'unica strada che si porterà di là per bene. Ma è, che strada è, la A1? Sì, è l'autostrada, no? Sì, è l'autostrada, no? È l'autostrada per il Paranello. Ah, ok, ma il Telepass ce l'ha? Eh, non lo so, bisogna acquistare. Il Telecrist. Che spettacolo, che bello Assisi, eh, ma i turisti quando vengono, vedono questa immensità di San Francesco, ma che bello. Sì, è l'autostrada. Sì, è l'autostrada. Ti ricorda sta strada? Ma non dovevo andare con pausa per la chiesa, no? Non. E ci trovavamo spostato. Io mi ricordo sta strada, questi alberi di qui davanti, no? Che bello. Che bello, c'erano vent'anni. Vabbè. Freda! Oh, mamma mia! Come! Mi fa paura, c'è, ma io adesso c'è, né, Carlo, a casa piena. Oh, madonna mia! Oh, Santa Chiara, mamma mia! Santa Chiara, aiutami anche tu! Con questo, non so che fine farò. Ma come? Ma tu ci fai tutti, perché di qui è tutte curve. Come macchina, va bene? Sì, tranquilla. Eh, dov'è? Perché di te, cassa, è tranquilla. Aiutami, guarda via la bastia in questo matto. Aiutami tu. Aiutami, guarda via la bastia in questo matto. Allora, dimmi la bastia in questo matto. Perché fa tanto amore? Che rumore è? Bu, 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 che è? Guarda qui. Guarda qui. Mamma mia! Oddio, mi. Dona, donna mia signora, San Francesco, padre mio! Padre mio, aiutami tu che questo è matto! San Antonio da Manuva che fa tutto con le grazie. Fai una grazia, piace molto. Fai una grazia. Oh, madonna mia signora! Oh, c'è io! C'è io! Vemmene che signora! Scendo! Oh, mi! San Francesco da qui, aiutami tu, questo matto. E' avuta meglio che non so' salita, guarda. Oh, madonna mia! Oh, madonna mia! Ah, mi butti! Mettela! Mamma mia! Vedo l'ora di arrivare a casa. Buona vera sì. Però è una cosa buona l'hiamo fatta, eh? Eh sì, ma è portato al cimitero che è da tanto che ci andavo. Grazie, bello. Oh, meno male. Grazie tanto, come tu sei sempre attento. Sì, no? Tutte le piccole cose. Quelle piccole fanno diventa grande. Eh, questo c'è ragione. Eh sì. Ah! Va, donna mia, signora. Oddio, mi! Oddio, le curva! Oddio, oddio, mi! Non ne faccio più guarda. Oddio, mi! Perché fa? Perché guarda? Pa! Vieni a casa! Pa! E' venuto dalla montagna. E' brava, sono venuto proprio dalla montagna. Un po' di nonna Maricheggiro che mi ha fatto. Bello. Mi ha passato da padre e figlio. Ah, beh, io sono venuto giù per di lì. Ah! Guarda! Adesso è preso anche i cazze mie del passino. Ma non vado a sciacqua, dico io! Oh! Oh! Ma! Eh, cammino, vattene, è deficiente, vattene! No! Eh, ma io non mi fanno via. Perché io sudo. Cazzo, che dove manda via? No! Sì, 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 sì. No! 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 Eh? Fa! 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 Ma che guarda? Lasciuto via. Mi hai favorito. Chiamolo, chiamolo. Sì, chiamolo tu. Fa! 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 Che stanno a guardare? Un passino. Beh, siamo tutti matti. Ciao! Come è stato sto giro? È stato bello. Ha tratti bene, ha tratti un po' meno, come la vita. L'importante è metterci al cuore, come su tutte le cose. Esatto. Grazie, grazie tanto. Però gli è piaciuto. Spaventata. Più spaventata. Più spaventata. Più. Eh, così, 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 vai, vai. Vai, vai, va così, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Grazie a tutti.